Lavori senza sosta, ma a fine anno il 60% dei tuoi utili svanisce in tasse. Frustrante, vero? Non farti sedure dai prezzi stracciati dai consulenti esteri. La mancata conoscenza della legislazione italiana potrebbe farti incorrere nel reato di esterovestizione, con pesanti sanzioni e conseguenze penali. Dike Consulting può ridurre il carico fiscale della tua azienda fino al 60%, proteggendo il tuo patrimonio. Abbiamo 5 sedi nel mondo, Albania, Repubblica Ceca, Montenegro, Dubai e Malta. Un sito continuamente aggiornato sulle novità fiscali di 14 paesi e l'assistenza sempre in italiano. Dike Consulting è la soluzione per la tua pianificazione fiscale internazionale e la protezione del tuo patrimonio. Le nostre non sono soluzioni standardizzate, ma un servizio personalizzato creato su misura in base alle esigenze dei nostri clienti. Prenota subito una consulenza con Dike Consulting, la tua società all'estero, il tuo patrimonio assicura.